Da oggi, 24 aprile fino al primo maggio, abbiamo portato qui a Forlì la mostra fotografica su Donoreste Benzi, un uomo e un sacerdote riminese della nostra terra che ha portato la sua testimonianza partendo da Rimini in tutta l'Italia e anche nel mondo. Oggi la comunità Papa Giovanni è presente in cinque continenti attraverso la sua opera di condivisione diretta. Questa mostra è una mostra fotografica che ritrae la vita di Donoreste Benzi e ritrae anche tutta l'opera, tutte le intuizioni e tutto quello che lui ha dato origine qui in mezzo a noi. Siamo molto felici come comunità Papa Giovanni XXIII di portarla qui a Forlì, una mostra dal 24 fino al primo maggio sotto il chiostro di San Mercuriale. È una mostra più che cronologica, è una mostra emozionale fatta di slogan, fatte di foto, di immagini, fatte di testi dove si vede la bellezza interiore di questo uomo e di questa grande persona che non solo da un punto di vista sacerdotale ma anche come uomo che ha portato avanti i diritti degli ultimi e dei più poveri. La comunità Papa Giovanni XXIII è presente a Forlì dal 1990, da allora in un primo periodo noi ci siamo principalmente occupati di tossicodipendenza, naturalmente poi sulla spinta propulsiva di Donoreste abbiamo aperto case famiglia. Oggi a Forlì ci sono 16 case famiglie e famiglie aperte, 4 comunità terapeutiche, abbiamo accolto in tutti questi anni ad esempio 1640 ragazzi nelle comunità terapeutiche. La realtà si è sviluppata enormemente anche in Italia e nel mondo, attualmente la comunità è presente in 32 paesi nel mondo diversi.